Ciao a tutti da DiegoDitecnophone.it, video registrato in 4k con Samsung Galaxy S8 Plus Andiamo un pochino a inquadrare la fortezza di Sarzana, che è questa Mentre quella laggiù in fondo è la fortezza di Sarzanello Sono due fortezze che una volta erano unite da un passaggio, meglio il passaggio c'è ancora Facciamo un pochino anche un esempio di messa a fuoco Guardate qua che spettacolo Ritorniamo al nostro panorama Ci spostiamo, camminiamo un pochino, andiamo alla luce Dalla luce passiamo all'ombra E facciamo un cambio di inquadratura rapido Voilà Bene, questo era un video registrato con Galaxy S8 Plus in 4k Ciao da Diego